Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti da Tilo Boris, benvenuti nel canale Pippi Stralo Racing Allora, perché questo video? Per rispondere ai tanti commenti che sto ricevendo e tanti dislike che può interessare come non può interessare, perché ognuno è della propria opinione e credo che debba essere rispettata Per quanto riguarda Vettel, forse voi mangiate e scordate Forse voi mangiate, voi siete tifosi di Vettel, al contrario di essere tifosi Ferrari Io ho detto e sempre detto che a me non interessa che vinca Vettel o che vinca Leclerc o che vinca Pingo Pallino A me interessa che vinca la Ferrari, del resto a me non me ne può fregare meno Io non sono tifoso di Vettel, ci sono i tifosetti di Vetteliani che vengono nel mio video live reaction Prima proprio di questa clip a commentare Vettel, Vettel, tu non capisci un cazzo Vettel, Vettel, Vettel Forse io non capisco un cazzo Da quando la Red Bull magica non ha fatto più un cazzo E da quando è venuto in Ferrari, si ha riportato la bandiera a Maranello Ha riportato la vittoria alla Ferrari Ha fatto quello che ha fatto Ma io posso dirlo che ero orgoglioso di quello che faceva Vettel Ma dal 2017 io l'ho odiato L'ho odiato sempre di più Perché è inutile continuare a difendere l'indifendibile Non si può difendere un Vettel che dal 2017, da quel Gran Premio della Germania Non ha fatto una minchia di niente Ha perso un titolo mondiale Che poteva essere suo al 100% Ha fatto la minchiata in Germania Ha fatto la minchiata a Monza Ha fatto tante di quelle minchiate che voi neanche immaginate Non dovete mangiare e scordare Ok? Se io ce l'ho Vettel, io ce l'ho Perché voglio da lui la perfezione Io voglio un quattro volte campione nel mondo Che faccio il quattro volte campione nel mondo? E non dimentichiamo la puttanata che ha fatto in Bahrein Non dimentichiamo tutte le altre puttanate che ha fatto quest'anno Non dimentichiamo che ha preso gli schiaffi dalle clerche Non dovete dimenticare Oggi, quando ho fatto il video Se voi vedete l'orario Eravamo, e l'ho spiegato Eravamo a metà corsa Che poi si è comportato bene E ha fatto una bella gara Questo mi fa ancora più rabbia Perché lui ha cercato di salvare il salvabile Quando invece, se lui partiva bene Faceva un'ottima partenza Lui, a lui, non lo passava più nessuno E dominava il Gran Premio del Giappone Lo dominava Perché aveva la velocità di punta Perché aveva la percorrenza curva Non aveva il passo di Bottas Ma Bottas li poteva stare appiccicati in culo Ma sicuramente Sicuramente Di superarlo in pista Non ce l'avrebbe fatto Per la potenza del motore Ferrari E soprattutto per l'ottimo pacchetto Che hanno portato in ritardo In questa stagione Mercedes campione del mondo Meritatissimo Perché comunque la Ferrari si è svegliata tardi Se si svegliava prima Assolutamente poteva essere Stavamo parlando di qualcosa di diverso Ma anche quando abbiamo iniziato Che eravamo forti L'anno scorso Nel 2018 Noi a casa Il risultato Non l'abbiamo portato Quindi non mangiate e scordate Se io ce l'ho con Vettel Posso essere libero Prima di essere contro Vettel Prima cosa Seconda cosa Seconda cosa Io ce l'ho con Vettel Perché è dal 2018 Che non sta a fare niente Ha fatto un'inizia bomba Ha fatto una cacata a fine stagione E ha fatto una cacata Per tutta la stagione 2019 Quindi ognuno È libero di fare ciò che vuole Difendere ciò che vuole Ma io tifo Ferrari Volevo dirlo E ribadirlo con questa clip video Perché io amo la Ferrari A me che vinca Vettel Che vinca Leclerc Che vinca Pingo Pallino Lo ripeto Non me ne può Fegare di meno A me deve vincere la Ferrari Punto E basta Poi l'ho detto Leclerc anche lui Ha fatto la minchiata Però si è rovinata la gara Anche per colpa di Verstappen Io la gara l'ho vista E l'ho vista tutta E vi posso dire Che bravo Che l'ha portato a casa il risultato Bravo Che ha portato il secondo posto Ma da un campione del mondo Di tale portata Di tale vittoria Io non accetto Un antistallo Non accetto Le puttanate che si girano Non accetto Che prende schiaffi Da un ragazzino E' più forte di me Posso odiarmi Potete mettere 100 dislike Anche a questo video Ma a me non mi inderi Io rimango delle mie idee Io ho amato Schumacher E ho visto Schumacher Perché anche lui All'inizio ha fatto puttanate Ma quando poi Ha raggiunto la sua perfezione E la sua maturità giusta Per poter portare a casa Dei titoli mondiali Consecutivamente Cinque Io non l'ho visto In Vettel Io non lo vedo In Vettel Quindi si E' un ottimo pilota E' un campione del mondo E' un quattro volte Campione del mondo Ma dopo Red Bull Lui non ha dimostrato niente Con questo concludo Vi saluto E appuntamento Oggi pomeriggio Alle 18.30 Con la gara Del Gran Premio di Monaco In notturna Con la categoria F1 Sul gioco della Codemaster F1 2019 Un saluto a tutti Da Tilo Boris Disgraziati maledetti Un abbraccio